ma non ne vado a te caci da questa è la volta del bar di responsabilità la prima volta è sempre No, il primo è sempre fatto è buono, no? no no buono hai bisogno di fare bubble ah, ho capito adesso proviamo un'altra cosa vediamo se è montato il calore non sono più ecco no un po' più di acqua più bicarbonato no no adesso il fuoco è il massimo un po' qui è la meglio di fuori più caldo più grosso ah, c'è trovi anche qui dai se è caldo un leggero un leggero movimento un leggero movimento non 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 mazzinata no non 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 mazzinata no non mazzinata no mazzinata